Santelli i primi due colpi nel cuore della politica calabrese li ha piazzati. Il primo si chiama De Caprio, alias Capitano Ultimo. Il secondo Sandra Savaglio. Tra qualche giorno a loro si uniranno i rappresentanti dei partiti che hanno vinto le elezioni. Perché la neopresidente ha sempre detto che la sua sarà una giunta politica. Intanto le due scelte fatte chiariscono il quadro entro cui Iole Santelli ha intenzione di muoversi. C'è la legalità e l'investimento nel mondo della ricerca. I due capisaldi con i quali intende dare una forte connotazione al suo agire politico-amministrativo. Non sono bandierine o nomine di facciata come gli viene rimproverato da certa politica. Ma passaggi decisi che muovono nella direzione del cambio di rotta. E che si inseriscono nel progetto più volte annunciato sia in campagna elettorale che all'atto di insediamento. Che mira a cambiare la narrazione della Calabria. Non più cenerentola ma ragione propositiva che può e deve fare di più. Adesso aspettiamo qualche altro giorno per conoscere le altre scelte che andrà a compiere. Per capire bene se al Capitano Ultimo e a Sandra Savaglio verranno affiancati uomini e donne capaci di interpretare questo nuovo corso.